Sbrighi, che mi gira la barca! Aspetta, non che questo viene. Eccolo qui. Eccolo. Eccolo. La Giulia Fantozzi, che cosa ha fatto? Eh, mi son... Mi son voluto rinfrescare. Ah, sì? E' come l'acqua. E' stupenda. Quasi quasi mi viene voglia di fare un tuffo anch'io. Lo faci? Pista! Ragioniere, è tutto bene?